Il colpo di testa è netto, il palo colpito pure. Beresi alza destro di testa, via di smassare di petto, ancora via di spalo. Ora la cronaca essenziale, Schachner all'inizio... ...entrato in squadra in campionato, questa volta, un debutante... ...minuti al termine, il Como sfiora il raddoppio con Todesco, ma Corti e il palo non lo consentono. ...dall'avvio della gara, Maradona su punizione, coglie la traversa... ...i rossoneri invece hanno sfiorato il gol, con una testata di Battistini, respinta... ...turone si è spesso portato in attacco... ...siamo nel primo tempo ed sono gli ospiti ad andare più vicini al... ...el bottino e chiudere il conto al venticinquesimo... ...laziani corregge sul palo, riprende Pulici d'ottima posizione... ...potenza da fuori... ...traversa... ...d'antonelli dopo l'ancio di Novellino... ...Vibani, eccola, un finale velletario... ...non è stata accettata nemmeno dai super tifosi... ...il Cagliari ha dato... ...lo spiraglio giusto e qui è il palo di Edigno... ...di testa, centra la traversa, 0-0, Massimo... ...e libera allegramente, Briaschi tira traversa... ...di testa, centra la traversa, 0-0, Massimo... Grazie a tutti.